Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, oggi proviamo la videocamera del Mode N9800 il phablet di Casamode, un'azienda italiana che è appena entrata sul mercato degli smartphone che ha prodotto questo dispositivo davvero niente male la videocamera che sta riprendendo questo video è da 13 megapixel e vediamo come si adatta ai vari cambiamenti di oggetto durante la ripresa proviamo a mettere a fuoco, è abbastanza buona anche la messa a fuoco proviamo un pan veloce un controsole, anche se ce n'è poco e vediamo un po' lo zoom durante la ripresa che ovviamente è sempre fino a 4x e anche se la qualità non è eccessivamente alta è comunque accettabile rispetto ad altri smartphone con questo tipo di lente e questa fascia di prezzo grazie a tutti